Auditorium di San Barnaba, gremito di pubblico per Massimiliano Motterle, virtuoso bresciano del pianoforte e protagonista del secondo appuntamento in cartellone per il Festival Pianistico Internazionale. Motterle, musicista di fama, molto apprezzato dagli appassionati, mancava da diversi anni al festival ed è stato seguito con particolare attenzione dal pubblico. Molto interessante e difficile il programma che ha proposto, tutto dedicato a Beethoven nella prima parte con la conosciutissima quanto complessa sonata opera 53 Waldstein, la sonata opera 54 e la polacca opera 89 e una seconda parte invece tutta Chopiniana, ricca di elementi spettacolari, con la polacca opera 44, due notturni opera 55 e la celebre polacca opera 53. Concentratissimo e affascinato nell'ascolto il pubblico in sala, tanto numeroso da accedere anche a sedi appositamente predisposti sul palcoscenico. Massimiliano Motterle, che nella sua carriera ha vinto diversi premi in concorsi nazionali e internazionali ed è molto apprezzato oltre che come concertista, anche come docente in seminari e masterclass, è stato dunque protagonista di un concerto intenso, che ha messo in luce la sua sicurezza, la sua misura, oltre alle sue capacità tecniche ed autentico virtuoso, assolutamente padrone di ogni sfumatura dello strumento, capace sempre di stupire. Notevole poi la sua sensibilità interpretativa. Veritatissimi dunque gli applausi del pubblico entusiasta e due i bis.